Il gruppo d'organese trasporti GTT si è posto come mission quella di trovare il sistema, cioè di andare verso il cliente e cercare di fornire un servizio che desse un qualcosa in più, un'opportunità in più e dare uno strumento ai cittadini per evitare o per migliorare l'aspetto dell'attesa per i nostri centri. Le motivazioni per cui noi siamo partiti con il First si è voluto inserire, fra le altre iniziative di quest'anno, prenotare il Ticket su tutti i nostri punti di vendita principali, Porta Nuova, Porta Susa in primis, parlo dei centri servizi che durante la campagna abbonamenti rappresentano il nostro punto di forza. È stato dato una comunicazione in coda. Se volete sostare, avete l'alternativa di non stare seduti o in piedi qui fuori, potete prenotarvi anche se in ritardo, perché è meglio fare magari da casa e vedere e scegliere il punto e comunque qualcuno si è scaricato all'app, si è prenotato e poi appunto lasciare il centro e arrivare quando c'è l'avviso che proprio il numero sta per essere chiamato. In questa iniziativa di YouFirst, questo servizio, può essere visto, e questo è il nostro obiettivo, di regalare del tempo al cliente, quindi riuscire a dare la possibilità di utilizzare il tempo anche quello di attesa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.